iniziamo con la nostra bg easy kiss semplice veloce ideale per pesi piccoli e medi può essere utilizzata per pesare tantissimi prodotti bg easy combi sistema di dosaggio combinato volumetrico peso questo innovativo sistema è molto più preciso del classico volumetrico semplice nell'utilizzo e facile da pulire saldatrice orizzontale mini ceiling sigilla in modo veloce e accurato qualsiasi tipo di sacchetto termosaldante può stampare in maniera indelebile sul bordo di saldatura la data di scadenza la data di produzione e il lotto salda anche i cavallotti in cartoncino infine vi presentiamo il nostro kit sottovuoto semi automatico veloce affidabile e versatile sigilla sacchetti a mattonella oppure booster cuscino di varie misure formati e pesi basta inserire sacchetti preformati perché vengano velocemente sigillati in sottovuoto cia confezionatrici tante utili soluzioni per pesare e confezionare i tuoi prodotti grazie! in Grazie a tutti